In quest'ultima parte del primo capitolo del libro di storia affronteremo la definitiva caduta dell'impero romano. Vedete come prima slide vi ho messo la famosa linea del tempo di cui vi ho parlato in classe. Come si fa una linea del tempo? Si fa una freccia grande, su questa freccia si pongono delle asticelle in corrispondenza delle quali si scrivono le date più importanti con l'evento più significativo. Questa è relativa agli imperatori da Diocleziano a Teodosio. La prima data è il 284 in cui Diocleziano diventa imperatore. La seconda data è il 303-304 nella parte inferiore quando Diocleziano ordina le persecuzioni contro i cristiani. Nel 312 poi nella parte superiore Costantino diventa imperatore. Nel 313 nella parte inferiore Costantino attraverso l'editto di Minano concede libertà di culto ai cristiani. Poi abbiamo nella parte superiore il 379 Teodosio diventa imperatore. Nella parte inferiore il 380 Teodosio con l'editto di Tessalonica dichiara il cristianesimo religione di stato. L'ultima data nel 395 muore Teodosio e l'impero è diviso definitivamente in due, tra Oriente e Occidente. Quindi alternandole dal sopra e sotto si mettono in maniera progressiva, in ordine cronologico, le date più significative. Noterete che nel capitolo ci sono tante altre date relativi a questo periodo, ma noi mettiamo quelle che sono dei punti di svolta nel periodo preso in considerazione. Quindi così si fa la linea del tempo. Torniamo all'argomento di oggi, la caduta dell'impero romano. Perché i germani travolgono l'impero romano? Una bella cartina storica ci mostra che da est arriva una popolazione di origine asiatica, di origine mongola, gli uni, dei terribili guerrieri a cavallo, di abitudini nomadi, non seminomeri, ma nomadi. Questi vivevano sempre a cavallo e vivevano di saccheggio. L'arrivo di questa orda di barbari spinge i germani verso i confini dell'impero romano. Quindi i germani che a loro volta avevano finito tutte le scorte nei loro precedenti insediamenti, cercano nuove terre e a ridosso del confine dell'impero romano ce ne erano tantissime. In più, spinte dagli uni, a partire dal 375, sconfinano verso ovest, cioè nell'impero romano. Il primo episodio che sancisce lo scontro diretto tra i germani e i romani è il disastro, cioè la sconfitta di Adrianopoli. Vediamo di che si tratta. Nel 375 i visigoti, ossia i goti dell'ovest, si spostano dalla Pannonia, l'attuale Ungheria, dove si stanziano adesso gli uni, si spostano all'interno dei confini dell'impero romano d'Oriente. All'inizio l'imperatore Valente, che regnava sulla parte orientale dell'impero, li fa accomodare e li accoglie come federati. Viene dall'altino fedus, che vuol dire patto, sono riusciti ad entrare all'interno dell'impero romano attraverso un patto. Loro avrebbero avuto terre da coltivare e un posto dove abitare, in cambio dovevano difendere i romani da eventuali attacchi di nuovi barbari. Questo accordo dura, ma per un po' di tempo. Solo tre anni dopo, nel 378, i visigoti si ribellano e cercano di sconfiggere le autorità romane. Allora, Valente, l'imperatore in persona, interviene con l'esercito romano schierato, ma viene sconfitto nei pressi di Adrianopoli e addirittura perde la vita in questo scontro. Quindi è una data molto importante, perché sancisce la prima sconfitta ufficiale dei romani contro i barbari. L'esercito romano viene annientato, Valente viene ucciso e i visigoti dilagano in Oriente. Quindi è la prima visaglia della disfatta. Vedete, Adrianopoli si trova qui tra la Turchia e la Grecia. Importante osservare le cartine storiche. Dopodiché, dopo questa vittoria dei visigoti, i barbari, le orde dei barbari dilagano, si riversano in Gallia e in Spagna, quindi anche in Occidente. Stilicone, che era un germano di origine vandala, era il comandante in capo dell'esercito di Occidente. Viene accusato di favorire l'invasione dei barbari, per cui viene giustiziato nel 408. Questo sancisce la definitiva rottura di collaborazione tra barbari e romani. Quindi finisce la politica dell'integrazione, che era stata cominciata da Teodosio. Per cui nel 410 i barbari, segnatamente i visigoti, riescono ad arrivare addirittura a Roma, guidati da Alarico, e saccheggiano la città. Era da più di due secoli che la città di Roma non veniva saccheggiata. Questa è la visaglia della caduta. Dopodiché anche i vandali nel 455 saccheggiarono nuovamente Roma, che era diventata ormai alla mercè, era rimasta alla mercè delle invasioni barbariche. A un certo punto arrivano in Europa, nell'Europa occidentale, anche gli Unni guidati dal loro capo Attila. Invadono la Gallia, dove sono fermati dal generale romano Ezio, che li sconfigge nel 451 nei pressi dei campi catalanici, nella Francia settentrionale, e così gli Unni si riversano in Italia, distruggono Aquileia in Friuli e cominciano a scendere per la penisola. Vengono bloccati non da un esercito schierato, ma dal Papa Leone I, che attraverso un accordo, riesce, quindi dando agli Unni un sacco di denaro, un gran tesoro, riesce a ricacciarli indietro. E' significativo che invece dell'esercito intervenga il Papa, sta a significare quanto importante era diventata la religione cattolica per l'Occidente. Vedete, questo è l'episodio in cui il Papa ferma Attila, è raccontato come una specie di miracolo, in realtà dietro c'è solamente uno scambio di denaro. E arriviamo alla fine dell'impero d'Occidente, quando l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo, di soli 13 anni, figlio del Patrizio Reste, viene deposto dal suo comandante in capo, l'Erulo, cioè di origine Erula, Odoacre, che come segno di sfida manda all'imperatore d'Oriente Zenone le insegne imperiali dell'Occidente, facendoli capire che non esisteva più un impero romano d'Occidente. Era il 476, è la data che indica la fine dell'impero romano d'Occidente. è l'inizio del nostro periodo di studio, ECEO, e cioè del Medioevo. Su questo capitolo faremo una bella verifica, quindi concentratevi sulle date, sui personaggi, sugli avvenimenti, perché saranno l'oggetto delle domande della verifica. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Grazie.